Siamo al calcio, sempre più un'incognita lo spostamento del match tra Napoli e Salernitana. Spalletti comunque aspetta domani gli eroi di Torino per concentrarsi solo sul match. Giovanni Messina. Lo slittamento da sabato a domenica della partita Napoli-Salernitana continua a tenere banco. Il caso è stato affrontato in un vertice sull'ordine pubblico che si è tenuto in prefettura. Un altro è annunciato per la giornata di domani. Alla riunione ha preso parte il sindaco Manfredi e anche il presidente dell'Aurentis sta seguendo l'evoluzione degli eventi. Posticipare il derby a domenica consentirebbe di giocare in contemporanea con la partita Inter-Lazio in programma le 12.30. Se i biancocelesti non dovessero vincere e il Napoli battesse i Granata, allora lo stadio Maradona potrebbe esplodere la festa per la conquista del terzo scudetto. E' chiaro, come ha ribadito il prefetto Palomba, che l'ultima parola sullo spostamento di Napoli-Salernitana spetta comunque alla Lega di Serie A. Noi faremo le valutazioni di ordine pubblico. La società Calcio Napoli con Lega e anche coinvolgendo gli organismi centrali del Ministero, tipo osservatorio sulle partite di calcio, valuteremo, tenete presente che martedì sera il Napoli dovrebbe giocare anche a Udine, quindi dovrebbe essere un doppio spostamento.